Santità, avevate ragione voi, dovevate riflettere e stare un po' da solo, ma adesso vi supplico, fate un atto di obbedienza al Signore, tornate con noi, un miliardo di persone vi sta aspettando. Ma non si può fare che io scompaio, sparisco, tutto questo non è mai accaduto, nessuno mi ha mai visto, nessuno mi vedrà più, ve lo prometto, lasciatemi andare via, vi prego.